Catturato in romania il killer di Pierpaolo Panzieri Pesaro spiazzata da un omicidio sconcertante Niente sgombero, la famiglia Monetti chiede tempo Vallefoglia, guarda medica aria aperta dalle venerdì a lunedì Maneschine, domani sera il concerto, una vitrifrigo arena sold out Una buona serata telespettatori di Rossini. Tv e benvenuti a questa nuova edizione di Rossini News. Telegiornale di oggi, mercoledì 22 febbraio, contrassegnato dalla svolta nelle indagini per l'omicidio delle 27enne Pierpaolo Panzieri, ucciso brutalmente nella sua abitazione nel centro storico di Pesaro. Il presunto assassino è stato fermato mentre era in fuga in Romania. Vediamo. La caccia al killer di Pierpaolo Panzieri si è conclusa in Romania. Nella tarda mattinata di oggi la polizia romena ha individuato e fermato il trentenne pesarese dopo una procedura di controllo che ha interrotto la sua fuga nell'est Europa a bordo di una Renault Clio di famiglia. Si sarebbe messo in fuga dopo aver ucciso il 27enne pesarese Pierpaolo Panzieri con 13 coltellate inferte a torace, schiena e collo all'interno dell'appartamento della vittima in via Gavelli 19, in pieno centro storico a Pesaro, a poche decine di metri dal conservatorio e da via Branca. Il presunto assassino sarebbe Michael Alessandrini, nome divulgato oggi, ma sospettato che già da ieri era finito presto in cima alla lista delle indagini della squadra mobile di Pesaro. Michael Alessandrini è descritto come un ragazzo con trascorsi di problemi psicologici, ludopatia ed episodi di condotta violenta. Alessandrini è figlio del titolare dell'hotel San Marco, storico albergo del centro di Pesaro dove lo stesso Michael lavorava come portiere. A quanto pare, tra l'altro, vittima e carnefice erano stati anche visti assieme nei pressi dell'albergo in più occasioni. Alessandrini e Panzieri si conoscevano da tempo e lunedì sera Pierpaolo avrebbe dunque aperto la porta al suo assassino. I due avrebbero cenato insieme fino a quando la situazione, per motivi ignoti, è degenerata in maniera cruenta e letale fino alla tragica scoperta di martedì mattina da parte di Gianmarco, fratello di Pierpaolo, che ha trovato il familiare ucciso e riverso in una pozza di sangue. Sangue le cui tracce macchiavano anche oggi i gradini dell'abitazione e la pavimentazione di Via Gavelli. Michael Alessandrini si è dato alla fuga oltrepassando la frontiera da Trieste alla Slovenia per poi continuare a scappare attraverso l'est Europa con poche centinaia di euro in tasca rubate alla nonna prima della visita a casa di Panzieri. Alessandrini si è portato con sé sia l'arma del delitto sia il cellulare di Pierpaolo Panzieri mai rintracciati dalle indagini nei pressi dell'abitazione di Via Gavelli. Squadra mobile procura della Repubblica del Tribunale di Pesaro che per tutta la notte fra lunedì e martedì hanno lavorato per braccare la fuga dell'assassino fino all'epilogo in terra romena. Qui fino al pomeriggio di oggi è stato in custodia della polizia locale in attesa della formalizzazione del mandato d'arresto internazionale. Restano ora da capire i tempi per un suo rimpatrio e restano soprattutto le mille incognite di un delitto che non trova spiegazioni per una famiglia Panzieri distrutta dall'aver perso un ragazzo di 27 anni tranquillo come tanti senza inimicizie tali da presagire una fine così drammatica. E a proposito di questo omicidio, questa mattina la città di Pesaro si è svegliata spiazzata e sconvolta da un effatto di cronaca che ha distrutto ben due famiglie. Vediamo il servizio. A 24 ore dal ritrovamento del corpo di Pierpaolo Panzieri ieri 21 febbraio da parte del fratello Gianmarco via Gavelli, il civico di via Gavelli 19 si presenta così. Ieri sera sono stati tolti i sigilli quando in tarda serata è stata estratta la salma da parte dei necrofori. Questa mattina la strada è sgombra, ci sono i sigilli alle persiane con il locale sottoposto a sequestro del civico 19. Civico in cui si vedono ancora i segni delle tracce di sangue che sono state parte dell'omicidio, probabilmente da parte dell'assassino che ha lasciato il luogo del delitto. tracce visibili anche sulle scale dell'abitazione. E questa mattina proprio via Gavelli è stata meta di tante visite di pesaresi che hanno voluto capire il luogo in cui si è svolta questa tragedia. Davvero con pochi precedenti e recenti in città c'è anche chi ha lasciato un mazzo di fiori davanti all'abitazione. Poca voglia di parlare tra i vicini di casa che di fatto conosceva un astento questo ragazzo ha trasferitosi qui da pochissimo, proprio dai primi giorni di febbraio. Però tra i pesaresi la notizia non è passata inosservata, tanto sgomento. Guardando i giornali è una faccia che probabilmente abbiamo incrociato tutti in centro. Io abito in centro, a pochi metri uguali dalla via dove è successo. Sicuramente ci siamo incontrati, Pesaro è... Ci conosciamo tutti praticamente. E la cosa più sconvolgente è questa. Poi vai a capire qual è il motivo, qual è la cosa. La morte di una persona non ha mai motivi validi, assolutamente. Però adesso sicuramente da parte di tutti, anche mia, c'è la curiosità di sapere il perché, il per come. decidi di togliere la vita a una persona con cui hai cenato insieme e passato una serata insieme. E poi c'è chi come Patrizio Borchia, noto gestore della storica paninoteca cittadina, Arnold conosceva di persona la famiglia Panzieri ed è stato qui, sul luogo del ritrovamento, davvero nelle ore concitate dell'arrivo dei familiari. Avendo un cliente che abita lì e ogni tanto ci chiama per portargli delle cose da mangiare, mi sono affacciato perché ho avuto l'idea che fosse lui, sai, in pericolo. E poi dall'ambulanza che invece era venuta per altre cose ho appreso di questo fatto di sangue e il padre che conosco mi si è avvicinato piangendo, insomma, drammaticamente. Sono rimasto lì alcuni secondi a consolarlo, poi è arrivato un dirigente della polizia e se l'è preso in custodia per, sai, tirarlo su di morale. E poi è stata una giornata tristissima, una giornata, sai, con sentimento di tristezza perché poi, sai, queste cose non dovrebbero mai succedere. Ma i ragazzi oggi, sai, non hanno più quelle buone relazioni. Noi delle volte litigavamo, ma finiva con una spinta. Questi invece hanno una violenza inaudita. Quindi il demonio si impossessa un po' di, sai, queste generazioni nuove. Ma torniamo ora sulla questione delicata che sta coinvolgendo la famiglia Monetti che, dopo aver visto pignorarsi la casa per alcuni debiti accumulati negli anni, questa mattina avrebbe dovuto lasciare la propria abitazione. Uno sgombero che però non è avvenuto, come possiamo vedere nel prossimo servizio. La famiglia Monetti questa mattina non ha liberato la propria casa. L'avviso di esecuzione immobiliare era previsto per oggi, 22 febbraio, data ultima per lo sgombero dell'abitazione, ormai non più di loro proprietà, bensì del nuovo acquirente. Il padre di famiglia Giuseppe, imprenditore, con una ditta di autotrasporti fallita, sa bene che l'edificio prima o poi dovrà liberarlo. Ma ciò che chiede la magistratura in questo caso è che gli venga concesso ancora qualche mese di tempo per poter trovare una nuova sistemazione. Un alloggio che possa supportare le esigenze della sua famiglia, in particolare quelle del figlio Alessandro di 25 anni, che dal 2014 è costretto a vivere su una sedia a rotelle a seguito di un incidente in Motorino. Nove anni senza tregua in cui papà Giuseppe e mamma Rosanna hanno dedicato tempo, denaro e speranza per poter rivedere il loro figlio condurre una vita normale. Questo noi l'abbiamo capito perfettamente, che l'abitazione non è più la nostra, questo è chiaro. L'unica cosa che noi abbiamo chiesto in tutti questi colloqui, telefonici che abbiamo avuto con l'avvocato Pretelli, che per conto del tribunale gestisce questa situazione, è del tempo. Lo so che magari i nostri tempi sono dei tempi che possono sembrare troppo lunghi a chi ha acquistato la casa, però purtroppo abbiamo questa situazione contingente che non ci permette di reagire in diversamente in questo momento. Abbiamo fatto questo percorso che è stato molto lungo e ancora lungo, è anche un percorso di soddisfazione, perché Alessandro per fortuna sta recuperando tante cose che non erano possibili di recuperare, però è anche molto difficile e noi dal punto di vista economico fino adesso abbiamo fatto da soli. Noi non siamo abituati a fare questo clamore e non è bello per un padre di famiglia mettere pubblicamente che non riesce a far fronte a fare bisogno della propria famiglia, quindi non è piacevole, però non riusciamo in questo momento a liberare l'immobile. Abbiamo bisogno di qualche mese, di un po' di tempo per poterci rimettere in careggiata. Noi siamo qui e lui ha potuto continuare sul cura grazie a delle persone private che ci hanno dato dei contributi consistenti per pagargli le cure. Grazie a Coldiretti che ci ha affiancato nel percorso della nuova azienda che abbiamo aperto, grazie a tante persone che ci hanno aiutato. In questi lunghissimi anni di agonia la famiglia Moneti, oltre ad avere a carico un altro figlio, Leonardo Di13, ha sostenuto le spese per poter far fronte alle necessità di Alessandro. Dal Montascale al letto ortopedico elettrico, ripianificando l'accessibilità al bagno e le ingenti spese per la fisioterapia. Un percorso riabilitativo che ha mostrato evidenti segni di miglioramento, seguito in una clinica privata macerata Marche quasi tutti i giorni per un costo mensile tra i 4 e i 5 mila euro. Abbiamo questo percorso che è incredibile perché lui percepisce le gambe, sa dove sono, riesce a muoverle. Tutte cose che abbiamo noi 4 diagnosi, di 4 istituti differenti, che ci dicono che non era possibile fare, che lui non avrebbe potuto recuperare nulla. E quindi, adesso io vedo solo questo, vedo mio figlio che deve recuperare, sto cercando di proteggere un ragazzino di 13 anni che è in casa con noi e ha il diritto di poter crescere, solo questo. Detto questo, non è che è colpa di chi ha acquistato la casa, la casa era in vendita, quindi quello che ha acquistato, l'ha acquistato. A questa persona gli chiedo clemenza e pazienza. Noi la casa gliela diamo, sappiamo benissimo che non era nostra. Questa mattina a dare un abbraccio di solidarietà alla famiglia c'erano amici e parenti nell'intento di ostacolare metaforicamente la procedura di sgombero invocata dal presente avvocato Buffoni a difesa del nuovo aggiudicatario dell'immobile e di Alberto Pratelli, custode giudiziario per l'esecuzione immobiliare. Una storia che si è infittita dai primi di luglio del 2022 quando è stato notificato il decreto di trasferimento dell'abitazione e dentro 120 giorni l'immobile doveva essere consegnato. Ahimè, si è arrivati a questa situazione probabilmente perché io con la famiglia Monetti ho avuto anche contatti con Giuseppe, se non sbaglio, il papà di Alessandro che mi disse che già da settembre aveva contattato le case popolari per avere una sistemazione ma ad oggi pare che non abbia avuto risposte io non ho avuto nessun contatto da istituti comunali o qualsiasi altra istituzione che mi aggiornasse della situazione quindi questo era l'esito naturale della cosa pur comprendendo moralmente le esigenze della famiglia e il disagio che hanno avuto c'è anche da comprendere che dall'altra parte c'è una signora una giudicataria con figli che ha acquistato un immobile che sta contestualmente pagando il mutuo dell'acquisto e l'affitto della casa ed è una cosa che si sapeva ormai da tempo perché la procedura è del 2018 quindi che questa casa prima o poi andasse all'asta si sapeva da 5 anni In tarda mattinata Pratelli ha consegnato alla famiglia il verbale di liberazione dell'immobile ma da oggi alle prossime settimane non ci saranno ulteriori sviluppi fino a quando non verrà riaperto il procedimento E durante l'ultima domenica di carnevale la polizia locale di Fano è intervenuta mentendo in salvo una cinquantenne che stava tentando il suicidio una coppia composta da una fanese e da una non residente in città ha infatti iniziato a litigare nei pressi della liscia la donna lanciando il proprio telefono per avere le mani libere si è aggrappata alla recinzione delle porto canale con il tentativo di togliersi la vita attirati dai toni accesi della coppia gli agenti hanno bloccato la donna che opponeva forte resistenza cercando di gettarsi nelle canale portata in salvo e è stata trasportata in ambulanza al pronto soccorso in tarda serata la donna si era rasserenata ed è stata riaccompagnata nella sua abitazione in buone condizioni di salute e la casa della salute di Vallefoglie a marzo vedrà riattivare il servizio di guardia medica un parziale ripristino vista la carenza di personale medico in grado però di assicurare un servizio dalle venerdì sera alle lunedì mattina in attesa di tornare alla copertura del servizio per tutto l'arco della settimana gli abitanti di Vallefoglie possono contare su un servizio almeno nelle weekend e dalle 24 alle 26 febbraio il teatro sperimentale di Pesaro diventerà luogo idee per capire dove va il mondo e questo è lo slogan dei tanti incontri di scenari il festival è dedicato alla geopolitica delle quotidiano domani si comincia venerdì alle ore 17.45 con un dialogo tra il sindaco Ricci e il direttore delle quotidiano Stefano Feltri per poi proseguire con lo spettacolo delle polistrumentista e scrittore Massimo Zamboni sabato e domenica giorni ricchi di appuntamenti in cui si parlerà grazie anche ad ospiti internazionali dei grandi problemi della geopolitica internazionale e venerdì 24 febbraio alla chiesa dell'Annunziata un nuovo appuntamento musicale di playlist il progetto è di Toni Cortone in arte mai 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 ed è un viaggio che racchiude suoni di folklore mediterraneo in una atmosfera cupa e misteriosa mischiati a musica elettronica la serata promossa da Amat verrà aperta dalle musicista pesarese Levi e adesso passiamo ad una delle tante iniziative culturali promosse in queste settimane dalle scuole pesaresi si tratta di un progetto in collaborazione tra il liceo artistico Mengaroni e la biblioteca oliveriana che vuole fare rivivere i testi della letteratura italiana del Novecento La città non dice il suo passato lo contiene come le linee di una mano scritto negli spigoli delle vie nelle griglie delle finestre queste le parole di Italo Calvino nel romanzo Città invisibili pubblicato nel 1972 è divenuto uno dei più grandi classici della letteratura italiana il liceo Mengaroni in collaborazione con la biblioteca oliveriana ha deciso di adottare questo testo per sviluppare un progetto culturale che richiamasse il concetto di identità e di appartenenza alla città di Pesaro gli alunni dell'istituto Mengaroni hanno infatti letto 5 brani presenti nel testo rivisitandone altrettanti con l'obiettivo di immaginare e creare nuove città popolate dai loro sentimenti e in linea con il loro modo di vedere il mondo il progetto nasce da due insegnanti che hanno trovato in comune l'amore per uno scrittore che è Italo Calvino del quale quest'anno ricorre il centenario della nascita e ha fatto sì che unire due passioni di pancia di cuore e di sentimento possa aver coinvolto anche una delle nostre classi le città sono punto di partenza quelle di Italo Calvino ma sarà un punto di arrivo ed è il nostro desiderio che lo sia quelle che visualizzeranno i ragazzi in una forma del tutto particolare cioè quella che il loro sentimento il loro sentire appunto darà forma sia nei materiali che nell'organicità della tavola se sarà tavola o sarà quello che loro vorranno Abbiamo voluto proporre anche una rielaborazione del testo di Italo Calvino delle città invisibili in modo da dare la possibilità ai ragazzi di riappropriarsi di questo testo in modo personale Da adolescenti cerchiamo di tirar fuori in loro i loro sentimenti, i loro sogni, le loro paure e in questo devo dire che si sono messi in gioco e hanno affrontato questo progetto proprio con lo spirito del viaggiatore La città è un argomento è un tema su cui si è riflettuto da sempre cioè la città è il luogo degli scambi è il luogo del confronto in qualche caso è il luogo anche dei conflitti e delle problematiche e vedere anche come tutti questi temi si sono sviluppati e sono stati anche affrontati nel corso dei secoli penso che possa essere interessante anche per i nostri giovani ragazzi È un progetto del liceo Mengaroni delle professoresse del Mengaroni che hanno pensato di far conoscere ai ragazzi questo testo, insomma, le città invisibili di Calvino e di rielaborarlo secondo le loro potenzialità però in realtà è anche un progetto che nasce questa mattina perché è una collaborazione che si sviluppa che parte proprio oggi tra Mengaroni e Biblioteca Oliveriana perché magari chissà in futuro potrebbe anche essere che si potrà immaginare anche una non so, un'esposizione o comunque una elaborazione ulteriore che metterà in confronto le città invisibili di Calvino anche con dei volumi contenuti e proprio seduti dalla Biblioteca Oliveriana che raccontano e descrivono comunque le città in altri tempi e in altri modi E domani sera oltre 9.000 spettatori riempiranno la Vitrifrigo Arena di Pesaro per seguire il tanto atteso concerto dei Maneskin nella prima data del loro nuovo tour europeo La città di Pesaro è pronta per accogliere i Maneskin domani l'appuntamento con il loro concerto la data che aprirà il loro tour 2023 tra i palazzetti con l'ultima data che sarà il 5 maggio al Mediolanum Forum di Milano i Maneskin sono in questo momento dentro all'interno della Vitrifrigo Arena per le prove di rito prima del concerto di domani sera La città di Pesaro è pronta ormai non vede l'ora per un appuntamento che aspetta da oltre un anno come lo stesso presidente di Aspes Luca Pieri che ci testimonia la sua emozione davanti a questo importante concerto che ospiterà la città di Pesaro Diciamo che era un concerto programmato dai tempi della pre-pandemia poi purtroppo la pandemia ha fatto spostare il tutto e finalmente siamo arrivati in concerto tanto atteso, sold out che conferma realmente le potenzialità della struttura Vitrifrigo Arena che è un contenitore importante fondamentale per il territorio perché attira eventi di questo genere che oltre a portare tanta gente quindi a far bene l'economia turistica della città e del territorio fa promozione perché sono giorni e giorni che il nome di Pesaro della nostra città della struttura stessa circola e viene veicolato sui media nazionali ed anche internazionali e questo concerto fa sicuramente bene alla nostra città Ha parlato di sold out quanti fan sono attesi domani? Ha il numero massimo che è sopra le 9.000 persone quindi diciamo che ci sarà tanta gente abbiamo visto che già in queste ore in questi giorni ci sono persone che sono arrivate sia da fuori peso insomma dall'Italia ma anche persone che arrivano dall'estero proprio per assistere a questo spettacolo che come ricordo è in anteprima perché è la data di fatto la data zero in questo momento il gruppo sta provando all'interno dell'arena quello che è l'allestimento dello spettacolo e dico la verità ne vale veramente la pena sarà lo spettacolo degli spettacoli Quale sarà il programma di domani? A che ora apriranno i cancelli? I cancelli 19 così come l'apertura delle porte quindi l'ingresso all'interno dell'arena sarà la stessa ora poi lo spettacolo alle 21 Chi vorrà acquistare un biglietto last minute sarà possibile oppure no? Se ce ne saranno ma dubito fortemente che qualche biglietto possa tornare indietro insomma sì il botteghino è qui ma come dico con fortissimi dubbi E allora appuntamento domani sera con il concerto dei Mineskin qua alla Vitri Frigo Arena di Pesaro prima però di lasciarvi le previsioni delle meteo andiamo a vedere quale sarà la prima serata in onda su Rossini TV questa sera potremmo rivedere la 66esima edizione delle Carnevale dei ragazzi di Pesaro manifestazione che si è tenuta proprio questo fine settimana presso la nostra città presso Piazzale Carducci e nelle vie adiacenti del nostro centro storico Appuntamento poi come di consueto domani mattina ore 7.20 in diretta diretta anche sulla nostra pagina Facebook la rassegna stampa della provincia di Pesaro e Urbino ore 7.20 con la nostra direttrice Emanuele Rossi replica in grafica 8.20 12.30 14.18 Ci proiettiamo anche a domani sera dopo il weekend delle Final 8 di Coppa Italia di Torino che hanno visto la WL purtroppo uscire sconfitte in semifinale contro Brescia ritorna il nostro appuntamento con il giovedì di Insieme a Canestro saremo in diretta alle ore 21.20 anche qua in diretta su Facebook ospiti del nostro Marco Cadedu il presidente della Carpegna Prosciutto basket Pesaro Ario Costa e l'ex giocatore della WL e anche compagno di Ario Costa ai tempi dello scudetto Matteo Minelli Ed è tutto termina qua questa nostra edizione di Rossini News vi ringrazio per essere stati con noi vi auguro un buon proseguimento di serata Grazie a tutti